ciao a tutti ragazzi sono tornato per domanda popolare mi state dicendo sei andato in pensione hai finito di fare video ma che fine hai fatto? eh ci ho avuto da fare ragazzi ci ho avuto un sacco da fare e vi faccio vedere anche oggi in questo video il casino che c'è qua dentro e niente sono riuscito a chiudere il motore di Emilio finalmente dopo è stato un parto ragazzi è stato un parto problemi all'albero motore che avevo equilibrato col piombo si è spiombato si è tolto il piombo il motore si è mangiato il piombo si sono bloccate le fasce col piombo cambiato pistò insomma un bordello ragazzi un bordello però nonostante tutto il motorino va bene è arrivato alla velocità di 91 km orari con gps la macchina dietro mi segnava i 104 e purtroppo vi faccio vedere un breve video ma una piccola prova così perché non si realizza niente perché il conto a giri mi ha abbandonato conto chilometri del motorino tarato sulla bicicletta segnava il doppio infatti mi ha segnato 183,5 roba assurda e nello stesso tempo sto facendo il motore a uno mio amico super bravo motore kickstarter diciamo leggermente ritoccato così ma il cilindro stock vi faccio vedere anche questo lavoro qua va bene e la situazione nel garage un casino questo è il sì della prova ancora sta montato il motore purtroppo come vi dicevo problemi qua conto a giri vecchio ormai andato questo è il conto chilometri 183,5 praticamente sta segnando il doppio perché ha fatto 91 con questo motore tutto storto è partito storto e speriamo che non vada a finire storto questa è la trasmissione c'è i correttori da 101 mi sa frizione malossi varietone malossi e cinghia tutta sgaroppata questo pezzo di fango qui praticamente rimane sempre acceso non ho capito ancora se si riesce a spegnere non so e deve rimanere sempre acceso nonostante lo abbia impostato su 1pr 1pr che vi faccio vedere qui dice 1p 1r per motori 2 4 tempi 4 tempi 2 cilindri e 2 tempi un cilindro una scintilla per rivoluzione capacità giri 20.000 niente ragazzi l'ho impostato così perché già mi sa che erano impostato di fabbrica comunque ho spippolato un attimino niente da fare al minimo mi segnava 5.000 3.700 a capocchi per adesso lo proverò meglio ho fatto anche 5 giri sul cavo candela quindi lo proverò meglio poi vi farò sapere invece questo è il motore per il super bravo del mio amico il quale ha procurato tutti i componenti originali quelli che servivano originali tipo albero motore e carter questo è un cilindro polini 43 stock normale l'ho verniciato di nero e forse verniceremo anche la testata perché sul super bravo la testata era nera e vi faccio vedere un attimino abbiamo messo lo statore nuovo questo sta appoggiato così lo statore nuovo perché il suo era in condizioni pessime era in condizioni pessime quindi abbiamo ritenuto opportuno sostituire direttamente perché stiamo facendolo tutto nuovo allora vediamo un attimo lo statore nuovo speriamo che vada bene allora questo è lo statore nuovo della CIF ti danno anche i gommotti di uscita qui l'unica cosa è che questo ha la predisposizione per l'indicatore di direzione per le frecce poi vedrò qual è il cavo che dà corrente vedremo un attimo la modifica da fare per montarlo classici fili per la centralina bianco rossa e verde niente questo qua è il motore qui abbiamo sfondato un attimino perché purtroppo si sfonda per raccordare allora questo qua c'è due parole perché uno qua il classico e l'altro qua eccolo qui vi faccio vedere anche le misure 15 28 7 questo l'ho messo a filo è un doppio labbro l'ho inserito a filo con uno strumentino fatto velocemente in modo che il secondo labbro vada a filo dell'albero motore che c'è un cinque denti da quello che mi hanno detto i cinque denti dovrebbe essere la prima versione poi hanno fatto l'albero motore con sei denti per il kickstarter allora questo è il meccanismo anche a cinque denti che è stato smontato e ingrassato c'è un sistema con delle sfere con un cilindro d'acciaio semi rotante così che fa questo lavoro qua acchiappa e non acchiappa questo è stato procurato anche da Luca il mio amico va qui per non sbagliare stavo dicendo ho fatto questo attrezzino qua regolabile perché il parolio originale era 5 di spessore ed era monolabbro questo qua mi permette di inserire in battuta esterna però schiaffandolo un po' dentro tramite il dentino qua vi faccio vedere il parolio originale questo è l'originale e questo è quello che abbiamo trovato noi che è superiore il materiale migliore un doppio labbro farà sicuramente più attrito però capirai l'unica cosa che cambia è lo spessore ecco perché ci siamo dovuti adattare per metterlo quanto più dentro possibile ma fino a un certo punto altrimenti poi potrebbe toccare al cuscinetto e quindi danno ok ragazzi? quindi questo qua è regolabile si svitano le tre viti e si può scorrere su questo tubo qua per inserire va bene? tubi di merda così fatto in due minuti allora su questo motoro che cosa abbiamo fatto? niente carter originali kickstarter sono recenti di produzione dovrebbero essere 2002 sono stati raccordati al cilindro cilindro non toccato ho fatto solo lo scarico e messa una basetta da 1,5 e testata ad incasso qui vi faccio vedere la foto adesso sta tutto montato ho fatto delle rondelle larghe per distribuire meglio come al solito la forza del dado candela NGKR7 e basta ragazzi questo lo vedremo nel prossimo video ho fatto la valvola albero motore originale modificato lo vedremo nel prossimo video nel super bravo che vi faccio vedere adesso questo è il mezzo in questione è stato comprato così quindi non inizia a rompere le palle il colore è stato fatto così visto è piaciuto quindi non deve piacere a voi super bravo tutto nuovo e poi qui dovremo rivedere anche questa situazione qua cioè perde olio perché si svitò il dado della frizione ed è andato ad abbradere qui la sede del paro olio molto probabilmente il paro olio si è scaldato e non funge più e questo è bravo che perde olio praticamente questo lo faremo e poi vedremo anche la ruota anteriore che balla ricambieremo le palline i cuscinetti ballecchia un po' e questa ragazzi è la situazione che voi dite stai in pensione di qua di là ho la spinge che mi guarda lì e cerca sempre di uscire fuori perché vuole andare all'allà là c'è il tornio tutto pieno di polvere che fra 10-15 anni forse imparerò ad usare qui casino casino macchina che per prenderla devo fare lo smontaggio perché è diventato un banco da lavoro banco appoggio pezzi appoggio cartone qui non si capisce niente questa è la postazioncina di fresaggio che era l'esamiere allestito qualche tempo fa non ricordo se ve l'ho fatta vedere con la lucetta prima e seconda lucetta led di precisione i fresini qua quello grosso il dremel e qua c'è il bambino questo è il bambino lo metto là sta protetto dalla polvere niente ragazzi vi ho fatto vedere questa panoramica qua sempre il banco pieno di roba computer con la musica che altrimenti non andiamo da nessuna parte e questa è la situazione un casino e poi al super bravo che vi ho fatto vedere vedremo di mettere questa marmitta sperando che col kickstarter ce la facciamo come ingombri come misure va bene qua c'è il banco del pianto ho perso il controllo ragazzi ve lo dico ho perso proprio il controllo perché blocchi a destra blocchi a sinistra uno non vale l'altro non serve insomma devo pulire un po' di immondizia immondizia a go go questo è quanto alberi motori scoppiati mamma mia frizione mamma mia qua ci sono tutti i componenti di luca ha preso anche la frizione ma l'ossina poi vedremo vi faccio sapere come va purtroppo l'ho già assemblata eccola qua non vi ho fatto vedere nemmeno l'assemblaggio comunque ci sarà modo frizione valosi ragazzi e poi un'altra sorpresa da buon poveraccio a cattone vi faccio vedere il nuovo banco da lavoro eccolo qua l'avete visto anche prima però sembra una cosa da spiaggia infatti lo è oppure da giardino vi faccio vedere come funziona e basta per oggi vediamo come funziona questo banco da lavoro eccolo qua praticamente su questa tavola si mette il motorino e si lavora tranquillamente ad altezza comoda poi per chiuderlo funziona così il lusso infine ragazzi le magliette che mi state chiedendo vi sto facendo le magliette belle colorate e felpe queste qua praticamente stanno andando a ruba questi invece sono i regalini per emidio salsicciotto per il traversino giallo con la scritta esterna bianca fluo e questa qua è una bella toppa da mettere dove vuole lui ok gommata si può mettere sia con lo stiro sia cucendola facendo un lavoro alla doc per questo video è tutto il video non è ancora finito pensavo di sì invece no perché nel frattempo sono andati avanti i lavori allora vi dico in merito allo statore che aveva la predisposizione per gli indicatori di direzione il filo giallo ci ha permesso di avere la corrente giusta per alimentare le luci il clacson è tutto funzionante gli altri due il marrone e il blu li abbiamo isolati così per adesso e poi vedremo se stirparli oppure nasconderli qui nel vano in un modo o nell'altro poi l'fm da marmitte siamo riusciti a montarla però purtroppo non riusciamo a dare il kickstarter perché c'è troppo una corsa troppo breve quindi non non riusciamo però lo possiamo mettere in moto a spinta anche se abbiamo dovuto sgrattare la frizione malossi un pochettino perché era nuova e poi abbiamo fatto questa carpenteria qua massiccia brutta sì da vedere però funziona per fissare questa benedetta marmitte abbiamo fatto solo un forellino qua abbiamo detruppato la culla del super bravo abbiamo fatto piccole prove la frizione malossi si è svitato due volte il dado dietro questo qua nonostante l'abbiamo fissato forte e poi ho messo il blocco filetti due gocce sulla filettatura in modo da evitare di farla svitare ulteriormente ragazzi perché abbiamo questo problema qua poi nel prossimo video vedremo come va questo motore va molto bene però vi faccio vedere meglio poi proviamo una partenza giusto così per curiosità dunque ragazzi che vi posso dire abbiamo fatto altri due motori uno è già pronto tutto regolato tutto al massimo quello di emidio deve partire fra poco e questo qua dell'amico luca pure va bene tutto a posto il motore l'unica cosa non sono rimasto tanto contento della frizione malossi non è che non vada bene sembra che attacchi bene va bene però si è svitato in proprio breve tempo delle prove qui su 50 metri di strada così si è svitato il dato due volte della frizione quello che tiene insieme i correttori niente abbiamo risolto così poi ho riscontrato che fra le mollette rosse delle massette in dotazione e quelle blu cambia praticamente pochissimo comunque non c'ho conto a girare perché questo qua mi ha abbandonato prima del tempo già da nuovo mi devo vedere bene questi parametri qua non saprei se consigliarlo o meno però come fattura sembra fatta molto bene l'unica cosa se doversi trovare qualcosa qualche pecca è questo dado qui per adesso che si è svitato poi stop il resto ragazzi tutto a posto poi dico a quello là che dice gli occhiali commenti degli occhiali ti piacciono questi qua questi pure sono tutti storti ma non è che sono gli occhiali storti è la testa che è storta è qua tutto storto va bene è aceto ciao ragazzi al prossimo video ciao Grazie a tutti.